E voglio ringraziare una persona in mezzo a voi, una persona molto importante nella mia vita, che è mia madre. E mi è dito solo se io sono Ramia, se mio marito Ramia Andrea è consacrato anche lui. E quindi voglio insieme a voi ringraziarla e soprattutto festeggiarla, perché domani compie 80 anni. Quali sono i suoni che vieni? Ah, ho 25 anni che vieno dentro. E sono contenta, ringrazio di essere qui e questi auguri sono i più belli delle mie amiche. Come noi diciamo sempre, è bello che tu ci sei! E prima Cristina! Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a te! E' un momento che ero molto, molto disperata. e una mia amica che mi ha portato qui con un ragazzo che prega andiamo a vedere e poi che cantava quel figlio di lei sono rimasto nel cuore e ancora adesso ogni tanto caso non canto ma nel tuo compleanno ma nel tuo compleanno e comunque anch'io ti ringrazio il mio stile per l'essenza di te come diceva prima tua figlia questa famiglia non poteva essere qui senza di te che li hai convinti diciamo così a venire a conoscere questo povero Cristo ma a diventare loro stessi un grande Cristo alleluia dove va la mamma dove va la mamma e non tenero Andrea venuto una volta perché lo suo padre è stupendo e lui mi fa molto bello però non crederti che io sia sempre questo stavo a conoscere stavo a conoscere vediamo la curva io e le mie amiche esco da parte a setta lì e non ho detto non mi hai sentito ma sai ero a casa sono passato e ho detto grazie a Dio che cammino di amore quelli che andavano a vedere dove andava la mamma poi è stato a casa sua e loro sono disinfatti pace a tutti voi e gioia a tutti voi e gioia a tutti voi grazie a tutti